Paolo Lepore, direttore e adesso con questa iniziativa eccezionale, la filarmonica mediterranea, come è nata questa idea? E' sempre stata una mia idea quella di formare un'orchestra mediterranea, a parte il fatto che nel 2000 io ho fondato l'orchestra regionale giovanile pugliese, quindi questa idea della comunità, ecco la comunità Puglia, la comunità mediterranea, oggi più che mai il Mediterraneo è interprete principale di alcune situazioni molto importanti. E il nostro è un messaggio meraviglioso, la musica che lega i popoli, quindi oggi siamo in un momento di grande crisi e noi invece siamo propensi a mettere insieme, con amore, con gioia, i giovani, specialmente i giovani. Abbiamo giovani che vengono dal Libano, dalla Siria, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Slovenia, dall'Albania, insomma abbiamo una serie di giovani musicisti, sono una ventina circa, che suonano con noi insieme a musicisti pugliesi. Ecco, lo stare insieme, questo è molto importante per me. La Puglia, quindi al centro del Mediterraneo, Porta d'Oriente, hai detto bene, apre quindi a essere protagonista di una vicenda che coinvolge questi popoli, quindi non è soltanto terra di sbarco, ma anche di proposte, di proposte d'amicizia, di costruzione, costruiamo e leghiamo con gli altri popoli, questa è una cosa molto importante. Poi voglio usare, posso dirlo, Puglia non solo Taranta, non solo Pizzica, facciamo sì che la Puglia, perché la Puglia è anche turismo meraviglioso, la Puglia sono i bellissimi castelli, le bellissime cattedrali che abbiamo, ma la Puglia ha un patrimonio culturale importantissimo. Senti Paolo, quanti elementi è composta questa filarmonica? La filarmonica è composta da 50 musicisti, proprio un'orchestra sinfonica completa, realizzeremo due programmi, il primo da camera, dove facciamo suonare tutti i solisti stranieri, con alcuni solisti pugliesi, quindi spazio al virtuosismo, e nella seconda parte invece suoniamo tutti insieme con un programma meraviglioso, toccando e chiudiamo con West High Story di Leonard Bernstein, che oggi, appunto, quest'anno compie cent'anni dalla nascita. Dove stanno adesso questi musicisti? Sono ospiti meravigliosi, va sottolineato del SIEM, è un istituto agronomico sperimentale che ha le porte di Bari a Valenzano, e devo dire grazie ai dirigenti, al dottor Raeli, che questo è stato possibile realizzarlo, perché questi non solo ospitano, ma mettono a disposizione sale, interpreti, viaggi, collaborano con noi al 200%, sono sostenitori veri. Diciamo le date degli spettacoli, il primo è il 19 luglio, presso il SIEM di Valenzano, lì c'è una piccola selezione perché si accede per inviti, perché è un luogo privato, vabbè, comunque si può fare richiesta e accedere liberamente. Il secondo concerto è il 21 luglio, presso il Chiostro di Santa Chiara, ingresso libero a Bari Vecchia, nella città vecchia di Bari, il terzo concerto con la Grande Orchestra, il 26 luglio, nell'atrio del Palazzo dell'Università di Bari, e il 27 inauguriamo il Sovereto Festival. Il famoso Sovereto Festival. Dove tu parteciperai e condurrai alcune serate molto interessanti di provocare. Quante edizioni? È la sesta? Questa è la sesta edizione, è una cosa molto interessante, molto bella, è un borgo bellissimo, il Sovereto è un luogo meraviglioso, io sono innamorato di quel posto, quindi lo facciamo con molto piacere. Inizio il 27. Il 28 e il 29, certo. È il direttore del SIEM, Maurizio Rai. Sì, del SIEM è naturalmente della sede italiana di questa organizzazione, perché ogni iniziativa, sia essa di sport, di cultura, sia anche iniziative che riguardano naturalmente attività più congeniali a noi, come quella dell'agricoltura sostenibile o della pesca sostenibile, sono iniziative importanti laddove coinvolgono paesi del Mediterraneo, soprattutto in un momento di tensione, sono iniziative che possono dare un segnale di distensione. Voi ospitate questi musicisti? Sì, noi siamo stati molto lieti di essere coinvolti in questa iniziativa che naturalmente riguarda momenti di musica, musica che riguarda tutto il Mediterraneo, e quindi arte, cultura, di una regione millenaria. Noi ospiteremo questi giovani musicisti presso la nostra sede e naturalmente li metteremo in contatto con la comunità del Mediterraneo che vive presso la nostra sede. Il Siam è presente in molti di questi paesi, vero? Certamente, il Siam è presente nella maggior parte dei paesi coinvolti e naturalmente la nostra attività è rivolta verso i paesi del sud del Mediterraneo. La ringrazio, direttore. Prego. Presidente, è bella questa iniziativa. Paolo Lebore ha, come al solito, iniziative esplosive, ha messo insieme musicisti un po' di tutto il mondo con riferimento alla cultura mediterranea, si è fatto sostenere dall'Istituto Agronomico delle Nazioni Unite che ha sede a Valenzano, ha costruito con la Regione Puglia attraverso il bando triennale una buona programmazione. Insomma, mi pare che davvero si tratti di un'iniziativa pregevole. Spero che ovviamente ci sia tanto pubblico perché ci saranno tanti musicisti molto interessanti da ascoltare. E la conferma, la Puglia, Porta d'Oriente che si dà da fare anche per l'ospitalità di musicisti e che stanno in tutti questi paesi. Certo. Perché l'Est europeo, ovviamente, anche grazie alla nostra cultura d'accoglienza, a quello che San Nicola ci ha trasmesso, è un riferimento permanente. Noi adesso abbiamo il volo diretto Varimosca, abbiamo relazioni intensissime con tutti i Balcani. a differenza di quello che Salvini ha detto oggi, l'Albania e i Balcani sono cose che hanno molto a che fare con l'Italia e con noi.